Il punto della situazione a una settimana dalla strage di Genova per quanto riguarda le nostre autostrade, i nostri punti, le nostre strade? Noi ci siamo mossi in tempi non sospetti prima di Genova finanziando 15 milioni di euro le eventuali messe a norma e manutenzioni. Abbiamo chiesto di fare un monitoraggio di tutti i ponti qualche mese fa e il monitoraggio ci dà una scheda per ogni ponte. Quindi è una situazione buona e speriamo che continui così. Ha parlato del ponte di Vidor perché? Perché ci preoccupa, perché è un'infrastruttura simbolo identitaria, perché va messa a norma, va salvaguardato e perché penso che in questo progetto nazionale di opere e questo piano Marshall non ci possa non essere il ponte di Vidor. Si parla di un piano Marshall, non abbiamo ancora le idee chiare su quanto è successo, non abbiamo neanche i mezzi e siamo la vigilia della finanziaria. Io penso che sia fondamentale sottolineare che il governo ha deciso una cosa importante, di dedicare fondi e tanti alla messa a norma delle infrastrutture e delle scuole, io ci aggiungerei anche degli ospedali. Questo deve essere prioritario per un paese civile, dopodiché il resto viene tutto da sé. Anche con Renzi si era partito con la scuola sicura e poi sono crollate i ponti e anche le scuole? Vuol dire che bisogna lavorare tanto e fare in modo che non crollino, certo è che non è il primo, purtroppo, questo ponte e speriamo che sia l'ultimo, bisogna intervenire velocemente nelle infrastrutture nazionali dove immagino che le manutenzioni non siano proprio eccesse. La giustizia delle autostrade? Guardi, non mi entusiasma questa partita, dico anche che se qualcuno mai decidesse di farla, con le regole di oggi sarebbe un suicidio, perché il pubblico non può essere efficiente con le regole di oggi. Se si pensa di nazionalizzare sul serio, bisogna cambiare le regole, perché con le regole di oggi è più efficiente il privato del pubblico. Il 30 agosto Salvini sarà qui per il protocollo per controlli sulle infiltrazioni mafiose, potrebbe essere una firma che accelera anche il cantiere per la Pedemontana? Il cantiere sta andando avanti alle sue tempistiche e cronoprogrammi che sono definiti, certo è che accelera ovviamente tutto quello che sono i controlli, controlli ai quali noi non ci siamo mai sottratti, abbiamo sempre coinvolto le istituzioni dello Stato e questo deve essere chiaro a tutti. Ecco, dopo anche quanto è accaduto a Genova, ci saranno ulteriori monitoraggi e controlli proprio per quanto riguarda questo cantiere e poi i lavori successivi? Ma sì, ma questo sì, questo lo stiamo facendo, peraltro è già nei programmi, non vorrei che passasse l'idea che il Veneto fa i controlli dei ponti o controlli sulla Pedemontana, invece è stato a Genova, noi abbiamo deciso prima queste cose. Nella Pedemontana, nella fattispecie, poi lo spiegheremo nelle prossime settimane, c'è anche un piano già di monitoraggio per quello che sarà il post realizzazione dell'opera, per cui già prevedendo che comunque l'opera è in calcestruzzo e avrà un suo decadimento naturale negli anni.